Siete tutti pronti lì sopra? E dai, dobbiamo iniziare il divertimento questa sera? 3, 2, 1, si gira! 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 E ragazzi a questo punto attenzione, poggiamo la testa allo schienale e dai, iniziamo tutti insieme a ballare così quel crazy dance. E ragazzi a questo punto castellaneta, fatti sentire! E non ci siamo proprio, voce, voce! Va bene così lì sopra, teniamo bene appoggiata la testa allo schienale. E dai, soggiungiamo ancora? Ancora un pochettino? Ehi ragazzi, ancora un pochettino di più! Ok, stop!